Nuovo episodio della FLE al massimo. Riprendendo una riflessione elaborata dall'Economist di questa settimana, si può dire che così come l'Ucraina ha vinto la guerra breve, impedendo l'esercito invasore di prendere Kiev, oggi si trova in una situazione di svantaggio nel combattere la guerra lunga, nel corso della quale la Russia, seppur lentamente, sta guadagnando terreno nelle regioni periferiche del Donbass. Diventa allora fondamentale il sossegno delle forze occidentali, in questa particolare fase di lavoramento nella quale il consumo di armi e munizioni è molto più intenso e purtroppo molto più elevato il prezzo pagato in termini di vite umane. In queste circostanze l'arma più efficace a disposizione dell'invasore è la divisione, l'incertezza e l'esitazione nei paesi che al momento sostengono l'Ucraina. Putin sta evidentemente cercando di conquistare la maggiore estensione possibile di territorio per poi cercare un negoziato, confidando nella volontà dei paesi che sostengono l'Ucraina di interrompere il meccanismo perverso per la quale gli effetti del conflitto si stanno riverberando su tutta l'economia globale, in particolare rischiando di infliggere alle nazioni più povere i maggiori sacrifici perché l'interruzione delle forniture e la crescita dei prezzi dei generi alimentari rischia di causare delle rivolte e di tradursi in una vera propria emergenza umanitaria. Questa rubrica si unisce al colo di quelli che ritengono un grave errore accettare un compromesso con l'invasore che si è macchiato di crimini contro l'umanità. È una scelta miope che preluderebbe a nuovi conflitti e incoraggerebbe l'avvio di nuove campagne espansionistiche in futuro. In questo momento le società aperte devono difendere la propria libertà presente e futura e per farlo devono schierarsi al franco dell'Ucraina fino al raggiungimento di una vittoria che non lasci spazio alle ambiguità e che possa costituire un valido deterrente contro tutti i dittatori che ritengono di poter attentare alla sovranità dei popoli. Per la Fondazione Naudi avete ascoltato la FLE al massimo di Econ Massimo Famularo. Arrivederci.